Una nuova apparecchiatura, una TAC per il COC dell'ospedale Madonna del Popolo di Omenia. Una nuova tecnologia e una macchina estremamente importante per la diagnostica su tutto il nostro territorio. Le finalità sono esemplari perché riduzione della dose al paziente, riduzione del mezzo di contrasto, ottimizzazione delle immagini, il sistema post-esame che si chiama post-processi, si permette di fare tutte le valutazioni che possiamo fare e quindi va completamente a beneficio del paziente. Quante persone vedete voi passano dalla radiologia più o meno o magari che usano la TAC nel corso di un anno? Sono tra le 2.500 e le 3.000 persone. Probabilmente il numero verrà ampliato proprio perché è molto più rapida la macchina. Noi lavoriamo con dei numeri abbastanza importanti, arriviamo a 53.000 esami radiologici all'anno, comprese ecografie, mammografie e quant'altro. L'ATTAC non è la panacea perché questo è il messaggio che vorrei dare alla popolazione. È il primo step, il cosiddetto primo gradino nel momento dell'urgenza, quindi sospetta embolia polmonare, ischemia cerebrale, emorragia cerebrale o addominalgie, tanto per capire se c'è qualcosa di particolare. Diventa però importantissima a essere, a prevedere prima l'iterdiagnostico. Una struttura che si trova all'interno dell'ospedale di Dominia, ma non dobbiamo dimenticare, è all'interno dell'Arge del Verbano Cusiossolo perché è a disposizione di tutto quanto il territorio. Certo, questo è un investimento che ha fatto il COC, il privato e il pubblico insieme hanno scelto di rafforzare il sistema delle tecnologie. Questo servirà sicuramente alle persone che sono ricoverate interne, ma avrà anche una ricaduta per quanto riguarda le attività esterne. Questa non è l'unica macchina, è l'unico tipo di macchinario che avete acquistato negli ultimi tempi? Negli ultimi tempi sono in corso di installazione tre macchine nuove, anzi quattro. Dovrebbe arrivare a questa, arriverà un Arco AC a disposizione della radiologia per i pazienti che arrivano dal pronto soccorso, che sostituisce un vecchio apparecchio ormai obsoleto, un ecografo sempre nuovo che è in corso di installazione e un altro amplificatore di brillanza per la sala operatoria. Quindi quest'anno abbiamo fatto un grosso investimento nella radiologia, ma è una delle aree dove ci vede molto forti. Grazie.